Ben tornati con le notizie di videonews. A Guidonia le celebrazioni per l'anniversario dell'aeronautica militare. Il nostro servizio. Il nuovo polo concorsuale dell'aeronautica militare a Guidonia, alle porte di Roma, ha accolto lo scorso mercoledì 27 marzo Uomini e Donne della Forza Armata per una cerimonia militare in occasione dell'anniversario del 100 più 1 dell'aeronautica militare. Un evento svolto alla presenza di autorità istituzionali religiose e dei vertici della difesa e della Forza Armata, durante il quale sono state consegnate le onorificenze al personale e reparti che si sono distinti per particolari meriti nell'ambito di diverse attività, tra cui missioni fuori dai confini nazionali, umanitarie, di soccorso aereo e per attività nel campo della formazione al volo. Il Ministro della Difesa, Onorevole Guido Crosetto, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nei loro interventi hanno ricordato l'importanza delle attività svolte dagli uomini e dalle donne dell'aeronautica militare al servizio della collettività, evidenziando il grande lavoro svolto con integrità e senso del dovere. Io sono onorato di essere qua oggi, sono onorato di portare ad ognuno di voi, a quelli che sono qua e a quelli che sono a casa dell'aeronautica, il mio rispetto, la mia gratitudine e anche se me lo consentite, non è un termine molto militare, il mio affetto. Perché mi sento parte di questa famiglia, mi sento parte dei sacrifici che questa famiglia e tutti i membri fanno ogni giorno. Sono ferito quando succede qualcosa ai membri di questa famiglia, ma sono conscio dell'importanza del nostro ruolo, del vostro ruolo. Questo evento mi concede ancora una volta la possibilità di essere vicino e ringraziare personalmente il personale militare civile dell'aeronautica militare. È una squadra meravigliosa questa, costituita da donne e uomini che lavorano con affiatamento e profonda dedizione, animati da integrità e senso del dovere, valori fondamentali per chi ha scelto di essere al servizio della nazione. Ho accolto con entusiasmo la possibilità di partecipare all'odierna cerimonia che celebra i cento più uno anni di storia dell'arma azzurra, strumento e risorsa centrale al servizio della difesa e del sistema paese. Al termine della cerimonia, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha rivolto un pensiero a tutte le donne e gli uomini di ogni grado e di ogni ruolo, che con umiltà, abnegazione, professionalità, lavorano in silenzio, a volte lontano dai loro affetti, anche durante le festività, per assicurare con passione e cuore la sicurezza del nostro paese e di quello degli alleati. A tutte le colleghe e colleghe che sono non a casa, non festeggeranno Pasqua nell'ambito familiare, dico grazie. È un grazie sentito, molto molto profondo dal mio cuore, perché so cosa significa stare lontano da casa, so cosa significa rispettare un giuramento prestato alla nostra gloriosa bandiera. È un onore per me avere queste compagini di gente, di questi ragazzi e ragazze che sono veramente il cuore pulsante di una forza propulsiva che si chiama Aeronautica Militare. Aeronautica Militare che da cento anni fa il suo dovere, lo fa in silenzio e loro lo fanno in silenzio, lo ha ribadito anche il Ministro della Difesa e lo ringrazio per le bellissime parole che lui ha profuso nei nostri confronti. La cerimonia per il centunesimo compleanno dell'Aeronautica Militare è proseguita nel solco tracciato dalla speciale ricorrenza del Centenario della Forza Armata, che è stato festeggiato lo scorso anno e che oggi diventa un'ulteriore occasione per affermare e consolidare i valori e la passione che caratterizzano tutte le realtà dell'Aeronautica Militare, in volo sempre verso il futuro e verso lo spazio, naturale estensione della nostra Forza Armata. Il Centenario fu ufficialmente chiuso, entriamo nel nuovo secolo della nostra Aeronautica Militare, il nuovo secolo deve guardare in avanti, deve guardare oggettivamente quello che ci aspetta nell'orizzonte futuro e l'orizzonte è verso lo spazio, verso la multidimensionalità e quindi dobbiamo preparare e formare il nostro personale in questi due segmenti, non dimenticando le tradizioni e la realtà esistente. Siamo oggi qui nel nostro centro di selezione e non è stata fatta una scelta casuale, ma è stata voluta questa cerimonia qui perché dalla selezione e dalla formazione discenderà il futuro della nostra Forza Armata, quindi dovevamo dirlo a tutti che noi dobbiamo guardare bene chi selezionare, come scegliere le persone perché non saranno periodi semplici. Anche per oggi è tutto, il nostro appuntamento con le notizie aeronautiche finisce qui, vi auguriamo una serena Pasqua! Per oggi è tutto, il nostro appuntamento con le notizie aeronautiche finisce qui, vi auguriamo